Ciao, sono Gabriella di Vico della Forma, spero che vi sia bene e di buon umore. Con questo video voglio rispondere a tutte quelle donne che mi hanno scritto per eliminare quella pellaccia morta dietro le braccia. Allora, la prima cosa da fare è sicuramente quella di correggere la vostra alimentazione, mangiare bene per perdere peso e ridurre la percentuale di massa grassa. Inoltre, parallelamente a questo, dobbiamo ovviamente fare degli esercizi per poter tonificare la parte che è presente dietro le braccia, che chiamiamo tricipiti, con degli esercizi che vi mostrerò subito da fare a casa, in un parco, in palestra, dove volete, senza materiale, senza attrezzi, facili e divertenti. Forza, andiamo! Grazie a tutti! Mi raccomando, realizza quest'allenamento regolarmente per ottenere dei magnifici risultati. Se questo video ti è piaciuto, pollice blu e non dimenticare di abbonarti al mio canale YouTube. Ciao e buon allenamento! Ciao!